Sì, assolutamente sì, dal 21 al 24 di giugno anche il Comune di San Giovanni Valdano aderisce alla Festa Europea della Musica con una quattro giorni di iniziative estremamente ricche ed interessanti. È il 29esimo anno che in tutta Europa viene celebrata la Festa della Musica, noi facciamo parte del circuito riconosciuto dal Ministero della Cultura, infatti è presente il logo anche nel nostro manifesto delle iniziative. Saranno quattro giorni che metteranno insieme iniziative tradizionali, grazie al supporto dell'Accademia Musicale Valdarnese e del Concerto Comunale, ad iniziative nuove, dirette come dire a un pubblico più vasto, più di natura popolare. Una a due giorni, giovedì e venerdì prossimi, dedicati alla musica di strada con artisti che si troveranno in vari punti di Corsi Italia del Centro Storico, anche attori che animiranno il nostro Centro Storico dalle 18 fino alle 24. Una nota importante da ricordare a questa organizzazione, ha partecipato anche il Centro Commerciale Naturale, quindi anche numerose attività commerciali hanno aderito perché è un modo anche per animare il nostro Centro Storico e per dare una risposta in un momento di così evidente difficoltà.